Credo che la Chiesa possa essere significativa nella misura in cui porta con sé anche uno stile, quello evangelico, di sobrietà, di povertà e di attenzione soprattutto ai più deboli, imparando a guardare il mondo e le cose con i loro occhi. Voce di uno che cerca di guardare il mondo con gli occhi dei più piccoli, dei più bisognosi, dei più poveri. Il nuovo Vescovo di Vicenza indica la strada che ha davanti da percorrere con stile evangelico. Appena entrato nella comunità vicentina, a pochi giorni dalla sua ordinazione a Vescovo, Monsignor Giuliano Brugnotto definisce il santuario di Monteberico un gioiello spirituale. Monteberico è un santuario molto legato anche a tanti fedeli di Treviso, quindi non è esclusivamente di Vicenza. È a servizio, mi sembra, di tante persone che vivono nel territorio più ampio rispetto a Vicenza. Certo è un gioiello per noi, è un gioiello spirituale ed è una possibilità di incontrare le persone e dare loro il coraggio di affidarsi a qualcuno attraverso la cura materna di Maria che è in grado di ascoltare le domande più profonde. Quindi è davvero una bella realtà che la dioce di Vicenza, penso, possa custodire come un gioiello preziosissimo. Sarà lui il Vescovo che il 7 marzo del 2026 celebrerà il Giubileo della Rinascita per i 600 anni dalla prima apparizione della Madonna a Monteberico. Lo farà nel suo stile, segnato dalla sobrietà, la stessa sobrietà con cui risponde quando viene invitato alla suggestione del futuro, ora che è all'inizio del suo ministero episcopale a Vicenza. Come vorrebbe essere ricordato un domani. Come Vescovo di Vicenza spero di essere ricordato come uno che ha contribuito alla vita ecclesiale e sociale con quel poco di carisma che è messo nelle mie mani e quel tanto di provvidenza divina che si è abbattuta su di me e che spero non sia troppo impedita nel realizzare attraverso la mia persona quel servizio di attenzione soprattutto alle realtà più deboli.